Buonasera a tutti. Scusate il ritardo, ma come avete visto l'affluenza è notevole, quindi volevamo far stare più persone possibili. Buonasera e grazie a Irwin Welsh che ci onora della presenza questa sera per presentare la sua ultima fatica che è uscita da una settimana qui in Italia. Godetevi la corsa. Con Irwin Welsh c'è Giuseppe Culicchia che ci aiuterà nell'incontro, c'è Raul Resta che è l'interprete che tradurrà le parole di Irwin. In prima fila ci sono i ragazzi del gruppo di lettura che hanno lavorato in queste settimane perché hanno avuto il privilegio di avere le bozze del libro e hanno lavorato sui temi, sulla storia e saranno anche loro a colloquiare con il nostro ospite. Questo è l'ultimo appuntamento del Salone Office 365 che è un progetto di promozione della lettura che è curato dal Salone del Libro ma che ha tanti soggetti che lavorano con lei. Sono innanzitutto le circoscrizioni, tutte le dieci circoscrizioni della città perché questo progetto ha un obiettivo, quello di portare, di cercare di fare promozione della cultura soprattutto in periferia e credo che a Irwin questo possa far piacere. Ci sono le tante scuole che vengono volta a volta coinvolte in questo progetto, ci sono le biblioteche civiche e c'è anche la scuola Holden. Questo ciclo che era iniziato nell'ottobre scorso ospitando Alan Lasvani termina, adesso poi riprenderà nel settembre-ottobre prossimo con un altro grande scrittore internazionale come Irwin Wesh. Sono particolarmente grato e felice che questo ciclo si chiuda proprio alla scuola Holden con cui abbiamo iniziato una collaborazione, a cui voglio ringraziare le Ariane Diorio ma anche Martino Gozzi, Gianluca Pallaro che hanno condiviso un po' questa scommessa e insieme a loro anche i tanti tutor e gli allievi dei college della scuola Holden che ci hanno aiutato in questo lavoro, in questo anno che è stato credo soddisfacente da tanti punti di vista. Quindi siamo qui ospiti della scuola Holden e voglio ancora ringraziarli. Il gruppo di lettura, e poi finisco perché abbiamo fatto un po' tardi, è composito, io credo che soltanto il libro riesca a fare questi miracoli perché mette insieme studenti del Politecnico, studenti dell'Università di Lettere del Dams e anche allievi della scuola Holden. Devo dire che è stato per me, anche se come potete immaginare mentre si approssimo al Salone è un momento di grande lavoro, è stato comunque un grande divertimento poter ragionare con loro, confrontarsi con loro sui temi di questo libro che è come sempre un libro sorprendente, un libro divertente, un libro che fa riflettere e che ci fa ancora di più amare Irwin Walsh. Ho finito, lascio la parola a Giuseppe che farà un'introduzione e poi darò volta a volta la parola ai ragazzi che colloqueranno con il nostro ospite. Grazie. Ciao a tutti, buonasera, io sono molto felice di essere qui perché domani è il mio compleanno, quindi questa settimana ho stato fortunato, mi hanno fatto due regali, uno sapete qual è stato, questo è il secondo. E' inutile che io vi dica chi è Walsh perché lo conoscete tutti, immagino, avete letto i suoi libri, qualcuno ha letto anche le sue opere teatrali, lui ha anche scritto sceneggiature per il cinema e con quello che ha scritto ha costruito una sorta di epica del sottoproletariato scozzese, lo ha fatto in modo politicamente molto scorretto ma anche molto comico, usando la lingua della Corea, quella che Massimo Bocchiola ha tradotto così, la Corea, c'è la periferia Leite, questi quartieri disastrati, disagiati di Edimburgo, abitati da questi personaggi perennemente in tutta da ginnastica lucida. Uno dei personaggi, il protagonista di questo libro, Terry Giles Lawson, gira sempre con questa tutta da ginnastica lucida e lo fa anche perché grazie alla tutta da ginnastica sotto i pantaloni riesce a mettere in evidenza uno dei suoi attributi più importanti. In realtà in questo libro Terry torna perché è già stato uno dei personaggi di colla e di porno, in questo libro Terry non si limita soltanto a fare il tassista e a portare in giro prevalentemente ragazze per Edimburgo, ma recita anche nei ritagli di tempo nei film porno di Sick Boy che è un altro dei personaggi di Trainsport. In realtà leggendo i libri di Erwin Welch viene fuori che Trainsporting non è soltanto il suo primo romanzo, ma è una sorta di Big Bang da cui poi si sono scatenati tutti questi frammenti destinati a ritornare nelle opere successive. Io voglio veramente rubare pochissimo tempo perché siamo qua tutti per ascoltare lui e per ascoltare anche le domande che faranno i ragazzi del gruppo di lettura. Farò soltanto una prima domanda, lui in esergo cita Aldous Huxley una frase molto bella che dice un intellettuale è qualcuno che ha scoperto una cosa più interessante del sesso. Io volevo chiedere intanto se si considerava un intellettuale e poi volevo anche chiedere negli anni della sua formazione se ha avuto più importanza o che importanza ha avuto la scuola e che importanza ha avuto la strada, dove per strada si intende musica, stadio, pub, tutto quello che volete. Grazie a tutti. 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 non ho avuto di tutto. E... ...I think that... ...you can have characters being quite dark, ...but they're actually... ...as long as you have them reaching for the light switch, ...you know, trying to do better, ...people will stick with them. And I think that's...to me that's a very important thing ...when you construct a character. You can have them do lots of bad things, ...but provided that ...they're actually trying in some way ...to be better, or they're trying in some way ...to move to some kind of internal ...understanding of what's going on around them. Even if they don't get there, ...as long as they're trying to get to that point, ...I think readers will stick with them, ...readers will kind of invest in them. And you have to show that, I think, ...you have to show the different... ...you have to show somebody that ...has some kind of humanity ...and is still trying, even though ...they've made the wrong decisions. Yes, yes, I like it to speak of characters ...that have had a bad year, ...that have had a bad year, ...that have had a bad year, ...and that have seen any successful ... Societies, ...this side due to the drugamentos, ...it is due to a loss, ...it is due to a disaster of a amazing story, ...alue awful thing, ...or a mental illness, mentale eccetera eccetera. In ogni caso in questi momenti della vita le persone devono fare una scelta assoluta e è lì che scelgono che direzione deve prendere la propria vita veramente. Non è divertente condividere con queste persone questi momenti nella vita reale ma lo è molto dal punto di vista narrativo. Sono persone che sono in un periodo oscuro nella propria vita ma in qualche modo stanno cercando a tentoni di raggiungere l'interruttore della luce. Quindi io voglio che i miei lettori stiano con questi personaggi e capiscono che nonostante si trovano nel buio quindi facciano delle cose molto riprovevoli, molto brutte stiano cercando assolutamente di fare qualcosa di meglio, di migliorarsi. Io cerco di, magari non lo capiscono materialmente ma voglio che i lettori cercano di immedesimarsi in questi personaggi e di capire i loro sforzi per raggiungere questi miglioramenti. È un certo tipo di sfida che impongo al lettore. Vittorio. Buonasera. Al centro del suo ultimo romanzo c'è questo uragano ribattezzato Dupalle che scandisce le fasi della narrazione e ritorna spesso nei dialoghi dei personaggi e spesso in modo canzonatorio. Eppure neanche un uragano riesce a cambiare le vite dei personaggi come se la cosa non li riguardasse. Ma gli scozzesi sono davvero così, cioè imperturbabili e irragionevoli di fronte anche alle minacce più serie. Grazie. 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 No, 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 no. Because people called it, in Scotland they called it Hurricane Bobag, which is like Hurricane Scrotum, basically. And even the people on the news were referring to it as Hurricane Scrotum. So its real name was lost. And I think that it actually became quite prophetic because, you know, everybody was advised to kind of stay indoors and all that. But everybody went to the pub and enjoyed the kind of, you know, the excuse of being locked in. ma l'uragano non ha avuto un uragano, non ha avuto un uragano in Scotland, non ha avuto un uragano in Scotland, quindi non ha avuto un uragano in scotland, e in realtà l'uragano era giusto. Nel momento mi trovavo negli Stati Uniti e negli Stati Uniti c'è un grande terrore degli uragani, era appunto l'uragano Katrina che aveva distrutto New Orleans, ma anche la gente che vive a Miami, che vive in Florida, è sempre molto preoccupata, gli uragani cercano sempre di ripararsi al meglio. Io telefonavo ai miei amici scozzesi dicendogli mettetevi al sicuro, guardate che sarà una tragedia, e loro non mi davano molta importanza, ma sì, cosa mai potrà essere, e tant'è che infatti questo uragano è stato ribattezzato nella traduzione italiana Dupal, che Browback, la parola in inglese, vuole appunto dire scroto, tant'è che addirittura le televisioni e la stampa l'ha chiamato così, quindi il vero nome dell'uragano è andato perso, perché i medi e la popolazione scozzese l'ha ribattezzato in questo modo. E' stato profetico in un certo senso questo uragano, perché le persone per ripararsi dall'uragano sono tutte riparate nei pub, si sono chiuse dentro i pub e hanno aspettato che l'uragano passasse. L'uragano infatti non ha fatto nessun danno, e le persone erano convinte che quest'uragano non avrebbe potuto danneggiare la Scozia, è impossibile che un uragano danneggi la Scozia, e così è andata infatti. Carlotta. Nel libro le figure paterne sembrano tutte poco responsabili, distratte se non addirittura assenti. Quale visione dell'essere padre oggi ci vuole trasmettere il suo libro? Yeah, I mean, I always, I kind of, I don't know where all that comes from, but I've noticed in a lot of my books, fathers tend to get quite a bad deal. And I don't know why, really. I mean, the father that I had personally, I wouldn't have swapped for any man in the world. But I think that probably when I see, when I saw a lot of my friends growing up, the ones that kind of, the ones that kind of really did well, very quickly in life, had really good dads that took an interest in them. And the ones that kind of got lost a little bit and had to go a long way back and kind of, you know, were the ones that either had absentee fathers or kind of bad fathers. So it's just something that I've kind of noticed myself and it probably comes out subconsciously in the fiction. It's maybe not fair, actually, to look at life in that way, but it's just something that seems to sort of inform itself in what I write. Yes, I want to talk about my books, I think it's true that the father is not solved in the best way. Of course, the parents come Terry walk from one woman to another without paying attention to what they produce. I want to tell you that, I've seen my friends become parents and who in life had already taken a turn from one woman to some point and had already done what to do and did it do and who did that in the middle of life and who did it that is lost in the mind of the more low well, that's why they were in a bad age. So, at the level of inconscio, this is what he came out with my films. It's not a good way to represent the father, but for it's the way that my reality has been by the way. Emanuele Buonasera attraverso il personaggio di John T. McKay ci vuole forse dire che il male quello vero si nasconde spesso nelle persone più insospettabili e ci segue passo passo nella vita quotidiana No, I don't think John T. is evil I don't think he does anything that's kind of really that bad I think he kind of operates from a position of he's one of these guys basically that's fallen through the cracks he's just not been he's not had a home life to speak of he's not had any schooling so he's kind of been really neglected and I think that basically all he's looking for is a home basically that's all he wants he wants somewhere to call home and he wants some people around him he just wants something to love and I think he's very and because he's quite a bit slow and he's not got a lot of social skills he kind of gets bullied and picked on and singled out by people so he's quite a tragic figure really but he's also a survivor he's also got a kind of bit of some cunning and survival skills and I kind of saw him actually he's not so much an evil figure but I saw him as a kind of the most sympathetic figure in the book really maybe that's just me I don't think it's a kind of thing I don't think that John T.C. is a figure so malvagia or that it's an impersonification of the evil al contrario he's not 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 tutti i modi. Devo dire che io empatizzo molto con questo personaggio, gli sono molto vicino, forse sono solo io. Giacomo. Buonasera, nel suo romanzo si incontrano molti riferimenti letterari da Axley, Dostoievski, Bronte, Melville, soprattutto verso la fine delle ultime pagine del libro, ma la sua scrittura sembra essere molto lontana dalla prosa degli autori che cita. Volevamo sapere che ruolo effettivamente hanno avuto e se ce l'hanno avuto nella sua formazione di scrittore. Noi, che aveva scritto la lingua inglese, che aveva scritto la lingua inglese, ma era così far removedo da mia sociali circunstanzi che non poteva scrivere in questo modo o costruire le caratteristiche in questo modo. I wantedi costruire le caratteristiche di roundabout da dove sono arrivato. Quando ho iniziato a scrivere la prima novela, ho iniziato a scrivere in standarde English, perché ho realizzato che sembrava ridicoloso e potente. I mean, the characters didn't think or they weren't coming to me in that way, their voices weren't coming to me in that way, in either dialogue or narrative. So, I kind of started to experiment with different kind of forms, this kind of street slang. And in Edinburgh, a lot of the street slang comes from, in East of Scotland, it comes from gypsy culture, from travelling culture. And a lot of it comes from two distinctive kind of languages, like two distinctive branches of Old Scots, one called Lalans and another one called Doric. So, I was trying to identify linguistically where all the sources of language came from that people kind of spoke. And then was trying to sort of construct it, but contemporise it as well. So, that was the sort of, what I liked about the Scottish vernacular is that, I mean, I wanted, I was very much into, I was very much into going to clubs. I was DJing at the time. Asset House was kind of really big, kicking off big time. I was going clubbing every weekend. And I was influenced by the idea, the music, the idea of the beats. And to me that the standard English is a very imperial kind of language. It's a very weights and measures, very sort of precise thing, but it's not very funky, you know. So, I wanted to get, I wanted to find this kind of thing that would have a kind of beat to it that would sort of, that would kind of move things on. And I found that the verbalisation, like, you know, the more verbal kind of language, you know, the Scottish language, which is kind of very performative, suited me better to try and write in that way. Unfortunately, when I read it back, it looked a mess, because you're not used to seeing words like that on the paper. And I had to kind of get over that myself. And some people had to try and get over that when they read it. And, you know, that was one aspect of the style that I developed, I think. And the second aspect was that, going back to kind of house and dance music as well, that I had the kind of beats of that sort of kind of Scottish kind of stuff. And I wanted to put kind of effects on top of that. So, I had visual effects like kind of words falling off the page or different typography, like I did in a couple of novels like Marabou's Thought Nightmares and Filth. I wanted to try and experiment with that and push that out a little bit. And it's a kind of my kind of writing style, I suppose, has been formed by these two things and by that kind of, and by kind of being a DJ and being interested in beats and being interested in house music. Okay. All'inizio, quando ho cominciato a leggere, mi sono appassionato alla lettura, non avevo ben chiaro dove sarei andato. C'erano dei libri che mi piacevano ma non sapevo bene perché. Per esempio, uno dei primi libri che ho letto, che si chiama Divine Wall, parlava dell'upper class. L'ho letto, mi sembra interessante, però da quel libro non potevo costruire dei personaggi che fossero miei, era un mondo che non mi apparteneva. Io quindi volevo costruire, volevo parlare delle persone che mi erano attorno e cominciai a scrivere un primo romanzo e lo scrissi in un inglese cosiddetto standard, cioè normale, senza grosse inflessioni. E quella voce, mentre lo reggevo, quella voce non mi suonava familiare. Dicevo questo libro non deve essere così. Quindi ho cominciato ad adattarmi alla strada, a ascoltare il modo di parlare della gente per strada, che si rifà molto a una tradizione zingaresca, più che altro nomadica, a base ad Edimburgo, in Scozia in generale, ma precisamente in Edimburgo. Perché la parlata scozzese viene originata da due diversi linguaggi, lo Yowens e il Doric, e quindi mi sono interessato a quali fossero le radici delle parole scozzese contemporanee in base a queste due origini, a queste due fonti. E lì ho cominciato a costruire qualcosa, un linguaggio che avesse delle basi antiche, ma che fosse assolutamente contemporaneo. E poi il dialetto, in un certo senso la parlata vernacolare scozzese, ha un andamento ritmico. In quel periodo della mia vita io lavoravo come DJ in alcuni locali e quindi ero molto influenzato, ascoltavo sempre musica, parlavo sempre con molte persone e ho percepito che il battito, le battute musicali, il battito della musica e il ritmo, poteva influenzare il mio modo in cui facevo parlare i miei personaggi. Anche perché l'inglese standard è una lingua imperialistica, è una lingua molto precisa, molto equilibrata, però non è funky, non ha quel beat particolare che invece il vernacolo scozzese ha. E quindi ho cercato, anche perché questo modo di questa parlata scozzese è quasi un modo per recitare, quasi un modo di cantare, quasi un modo di esibirsi praticamente. La gente quando parla sembra quasi che si esibisca in un pezzo musicale. E quando ho cominciato quindi a rileggere queste prime cose che ho buttato in giù in base a queste influenze musicali che avevo percepito, mi ero reso conto che era assolutamente un disastro. Era un disastro, la gente doveva completamente ricostruirlo e il lettore doveva ricostruirlo. E allora ho ascoltato più profondamente la musica e mi sono fatto influenzare ancora di più, mi sono fatto guidare ancora di più da questo beat. E in seconda istanza ho cominciato anche a applicare questo beat non solo al modo di scrivere, ma anche al modo di rappresentare le parole che scrivevo. Quindi anche tipograficamente, questo si vede in questo ultimo libro, ma anche in libri che ho scritto nel passato come il Lercio per esempio, dove ci sono alcune pagine in cui le parole sono collocate in maniera grafica, in modo se quasi per esempio nel Lercio c'è un effetto di parole a cascata eccetera eccetera. Quindi un effetto tipografico che si è andata a mischiare con l'effetto musicale che volevo dare alla mia lingua. Giulia. Buonasera. Terre e gli altri personaggi finiscono spesso per farsi giustizia da soli e in questo modo trovano soluzioni a situazioni che in altro modo sarebbero difficilmente risolvibili. Fino a che punto, a suo avviso, è giusto farsi giustizia da sé e andare contro la legge ufficiale? Lei? Lei. I think, I mean, I've just been reading a book now called Ghetto Side. It's basically a book about black America, and it's about how the police basically don't get involved in black-on-black crime, which means that it kind of goes through the roof, and it means that there's no confidence in black communities and the police. And I think it's kind of the same in a lot of working-class communities. I think people kind of don't really have confidence that the police are working on their behalf. Some do, but a lot don't, you know. So in that kind of environment, a sort of sense of street justice, if you like, tends to emerge, and people kind of tend to try to want to sort these things out themselves. And a lot of working-class communities right across the world now, I don't think there is, I don't think there is much room for kind of, I think, you know, the police and the courts are seen as people, you know, agencies that do things to you rather than do things for you on your behalf. In this moment I'm reading a book, a book, a book, a book called Gethoseye, that talks about the nere americans, and it talks about the problem that the police don't take care of dei crimini, dei neri, a danno dei neri stessi. E' quello che succede un po' per, nelle strade scozzesi praticamente, e le persone non hanno fiducia nelle forze dell'ordine, non si sentono, nell'ambiente da cui provengo, la giustizia personale, la giustizia di strada, il fatto che ognuno deve risolversi i propri problemi da solo, senza dover ricorrere a nessun altro, è molto presente. Anche perché nelle coscienze delle persone non c'è molto spazio per la figura dei poliziotti o comunque degli agenti in generale, come persone che fanno qualcosa a tuo favore. Più che altro sono viste come personaggi che fanno qualcosa sempre contro di te e quindi si tende a farsi giustizia da sole. Ecco, la prossima domanda la fa Carola che però legge un pezzetto per introdurre la sua domanda che riguarda la religione. Gionti entra nella chiesa dei cattolici, guarda con soggezione le statue di Gesù e della Madonna. Si chiede, chi sarà più ricco? Il Papa o la Regina? La chiesa cattolica romana feudale? O la monarchia e l'aristocrazia britannica? Ragiona se, come in bianchino, sia più conveniente essere cattolico o protestante? Partendo dalla lettura di queste sue righe, per lei, oggi, nelle religioni, c'è ancora qualcosa di spirituale? O ormai esiste solo prevalentemente l'aspetto commerciale? Oh, yeah, I mean, I'm not massively religious myself. Until my football team are playing and they're a goal up with a few minutes to go, you know, then I'll pray quite hard. But I'm not really a religious kind of guy, so I'm probably the wrong person to ask. I mean, I think that all religions basically kind of, you know, when you think about it, they are kind of rackets, they've got to be, you know, they're about control, they're about somebody saying that they've got this hotline to God and if you do as I say, basically you'll be okay. If you don't, you know, something bad's going to happen. And the newer religions, I mean, there's no difference between kind of Christianity and Scientology, for example. The only difference is that Scientology has a kind of paper trail. You know, we know that L. Ron Hubbard was on a boat with some friends and loads of cocaine and decided to make up a religion. And I think that's what happened with them all, basically. And so I think, you know, they all have that kind of thing. Now, against that, against all that organized kind of stuff, I think people are inherently religious in some ways and that gets kind of, it gets exploited by these organizations because people are on a quest to find out what is life, you know. We kind of, the idea that we just live and die and all that kind of stuff and it's, you know, I don't think that's enough for people. I think people are aware that there's something different, you know, and there's something different between, for example, a kind of, you know, there's something different between a live human body and a dead human body. There's something that's kind of, apart from the energy and all that, there's something spiritual, there's a dimension to life that we don't understand that even our conceptualizing kind of abstract science brains haven't kind of managed to work out yet. So, in the absence of, you know, in the absence of pure, all-knowing science, I think religion is always going to fill that little gap, you know, and maybe that's a good thing. Maybe we never will know all the answers. Well, I don't think I'm a person very religious, so I'm not the right person to answer this question. I pray when I play my team and, for example, they have to take a rigor, then I pray very much. But, I think that anyone who is official, in a way, 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 they say that they have this direct line with God and they say that if you will do it, then you will do it all well, and if you will do it, then you will do it all well. Second me, it's not the right way to see what should be considered the religion. and, for me, it's not a difference between the Christianity and the Christianity and the modern religion, like, for example, Scientology. Forse Scientology has the advantage that, at least, we know that 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 is written by a person real person, that has lived, that has also had a problem with cocaine, etc., etc., and that is called Ron Hubbard. Forse this is the only difference. But I'm against the organization organized, or against this, or against this way of being organized. I think that the human being is religious of itself, and that it is in a constant search for the truth, that it is through all his life. And this need is simply being used by the religion so-called canonics. But people are absolutely aware of the fact that there is much more than a living body or a living body. C'è qualcosa di spirituale, qualcosa che la scienza teorica non è ancora riuscita a descrivere ed è lì che le religioni intervengono, cioè vanno a colmare questo vuoto che non è capace di spiegare la scienza, ma in realtà gli esseri umani sono in grado di fare un percorso spirituale individuale per spiegarselo da soli. Carlo. Buonasera, il modo nel quale Ronny si comporta con Terry in generale verso tutti gli scozzesi in qualche modo di superiorità, nasconde in qualche modo una critica al capitalismo americano? Yeah, I mean I think that the thing about kind of a character like Ronny who is very kind of, very rich and sort of used to get in his own way and kind of very entitled is that they kind of, they live in, you know, he lives in his own world and expects things to happen and he expects everybody to be pulled into his world and then discarded and I think that the shock for him is to meet somebody like Terry who has nothing, who's from an Edinburgh housing project, who's exactly the same and even worse, even more narcissistic and egotistical than he is and it's that kind of thing that everybody is at the centre of their own drama and it's like circumstances kind of compel him into Terry's world as much as kind of Terry into his world and to me that's always a kind of, it's just an interesting thing dramatically to have going on in a novel, you know, the idea of two opposites, two people from very different backgrounds with very different attitudes kind of ending up together or being together or coming together for some kind of strange adventure and in some ways kind of meeting each other's needs, you know, I think that's always, it's always an interesting thing in fiction. Ma dunque, il personaggio di Ronnie è un personaggio, una persona molto ricca che è abituato a far sì che le cose evolgano a suo favore e a imporre a tutti la sua volontà e infatti appartiene ad un mondo totalmente suo, un mondo dove cerca di coinvolgere Terry per poi non dargli più credito, mentre Terry è la stessa cosa ma proviene da qualcosa di molto diverso, anche lui è assolutamente egocentrico, anche lui è assolutamente egoista, ma viene dalle case popolari, non ha avuto sostegni economici nella vita assolutamente, quindi più che altro io ero interessato in questi due personaggi a sviluppare una sorta di dramma dove il dramma che viviamo tutti, dove ognuno è al centro del proprio mondo e volevo fare in modo che questi due personaggi si incontrassero per creare un incontro tra due opposti, volevo che due persone che arrivavano con due passati nettamente diversi si incontrassero, si incontrassero per mischiarsi in un certo modo e per soddisfare le reciproche necessità. Volevamo sapere qual è la sua posizione rispetto all'indipendentismo scozzese. Volevamo sapere qual è la sua posizione rispetto all'indipendentismo scozzese. e... ... ... ... 65's who kind of, they saved the union at the referendum and I think that all the stuff like the welfare state and the nationalised industries and the National Health Service and the Universal Education Act all these things that kind of made up the British post-war settlement have all gone so it's like they've kind of taken they've taken all the social glue out of the UK and expecting and expected it to hold together and now it's kind of falling apart it's basically going into its constituent parts again and you see now it kind of almost happened in September with the referendum vote and now it looks like there's going to be a Scottish Independence Party landslide in Scotland at the election so obviously it means I think it means that it's basically Scotland's on the way out and I don't know what's going to happen to England, Wales and Northern Ireland I think there's going to if they're going to survive together it's you know in the UK I can't see that happening I think the UK will have to change in some ways to keep them even in some kind of loose federation together I think it's I think it's I think it's a dichiaration of honest if the Scoia could be independent also because the UK is not so united it's united it's united on the base of the industrial revolution it's united on the base of the British Empire but now now these things don't exist anymore and we're seeing what's going on what's going on what's going on what's going on a major reason with the privatization of the public health and the collapse of what's going on the universal education within the UK it's like if there was there was a collage and if in any case if we wanted to get this federation di stati assieme in ogni caso ma non questa unione è sempre più indebolita infatti la Scozia è quasi diventata indipendente a settembre con il referendum e questo comunque anche se la Scozia non ha sancito la propria indipendenza comporterà delle conseguenze quindi non sappiamo ancora quale sarà la via d'uscita della Scozia da questa situazione ancora meno ne so per quanto riguarda gli altri costituenti del Regno Unito cioè vado a dire Inghilterra Galles Irlanda del Nord sicuramente il Regno Unito dovrà cambiare dovrà cambiare qualcosa della propria struttura perché si stanno questi legami che uniscono insieme queste tre stati si stanno allentando sempre di più Chiara come ha vissuto lei la sua gioventù a Edimburgo e qual è il suo rapporto con l'Edimburgo odierna trova che sia cambiata molto la città e il modo di vivere dei giovani scozzesi Yeah I mean my youth at Edinburgh was fun basically it's I can't really complain and it probably went on a bit too long and in fact it kind of it phased into my menopause in Edinburgh without any real sort of gap between the two but yeah no I mean I kind of I left I mean I left Edinburgh for the first time when I was 17 to go to London and I was going back and forward between the two for years and years so I was kind of rediscovering the city I think that the youngest generation now of people at Edinburgh working class kind of youth middle class youth are the ones that impressed me most out of everybody because my generation we kind of knew we knew some kind of opportunity you know you could kind of if your job was crap you could get a better job or you could walk out and go to college and you'd have all your tuition fees paid and you could get an education if you wanted to you know so there were opportunities there was full employment and all that but there's been two generations that haven't really had anything like that so what they've had to do but the younger the ones below just got kind of smashed up on drugs really and kind of but the younger ones now are basically kind of decided that they have to reinvent things they have to reinvent a whole nation basically so they've kind of they're reinventing Scotland from within you know there's so many fantastic visual artists like painters now that are coming through there's so many musicians there's so many writers and filmmakers and there's been a kind of cultural renaissance but there's also been a kind of grassroots political renaissance of all those local and community groups and organisations that just seem to have just sprung up in the last kind of five years to advocate for change and they're massive kind of massive groups and they kind of have been very 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 influential so the new the younger generations people kind of basically people kind of twenty and down into the teens I think have been very impressive and very very different from previous generations of scots well la mia gioventù è stata molto divertente devo dire non mi posso proprio lamentare forse è durata un po' troppo a lungo quasi sembra che si vada a mischiare con la mia andropausa la prima volta che ho lasciato Londra che sono andato via da Londra avevo 17 anni scusatemi la prima volta che ho lasciato in Limburgo per andare a Londra avevo 17 anni da quel momento in poi sono andato ho fatto avanti indietro e ho sempre riscoperto la città ogni volta cosa posso dire alle nuove generazioni beh sicuramente mi fanno un'ottima impressione la mia generazione è una generazione che aveva molte opportunità aveva se aveva un lavoro che faceva schifo poteva cercarsi un altro lavoro meglio oppure poteva andare all'università poteva farsi un'educazione poteva aspirare ad un lavoro a tempo indeterminato avere un lavoro con tutti i diritti lavorativi del caso adesso non più e peraltro quella generazione lì si è un po' rovinata con le droghe e sono passate due generazioni e adesso cosa abbiamo davanti abbiamo un gruppo di giovani che si trova in condizioni molto più precarie ma che sta reinventando la nazione in Scozia adesso c'è una quasi se viene definito una sorta di rinascimento artistico ci sono ottimi artisti scrittori registi musicisti ed è un rinascimento che non ha solo una base artistica ma anche politica ci sono molti gruppi che vengono appunto dal basso e hanno fatto delle domande hanno spinto per ottenere un cambiamento e sono molto influenti a livello politico quindi io posso dire solo il meglio di questa nuova generazione che si stanno affacciando alla vita pubblica Vittorio lo sport è sempre molto presente nei suoi romanzi in questo troviamo il calcio e il golf ma al di là della scrittura che ruolo ha lo sport nella sua vita e per quale squadra fa il tifo? Yeah I mean the football team our support is Hibernia and Hibs we're not doing so well right now but we're trying to come back up into the top division we got relegated last season so we might do it we might not but we'll be back we'll be back we've kind of got a good we've got a good manager good young players and all that but yeah I mean sport to me I've always been obsessed with sport I've always been obsessed with football and boxing and tennis and it's to me it's like one of the things that I kind of hate about our society and our kind of the world that we live in you know sort of pre-industrial world sort of post-industrial world really that we do this thing about we put people into these groups of being either sporty people or arty people you know and as if there's some big dichotomy between the two I mean if it was up to me I would force people to do an hour of sport a day and an hour of art a day like kind of painting a picture or writing a story or shooting something on digital camera you know and I would force people to play a game of football or get into the ring and do some sparring or play a game of tennis you know because I think that if people got an hour of sport and an hour of art minimum a day then there would be no need for psychotherapists and counsellors and self help books and a whole industry of crap would just collapse because people would be much more centred in life and much more well adjusted because that's what we're meant to do that's what we're here to do we're not just here to work we're here for kind of we're here to play sport and we're here to do art I'm a tifoso degli hips al momento stiamo andando molto bene non siamo neanche in serie A però rimonteremo non so bene quando ma ce la faremo abbiamo un ottimo manager ritorneremo in carreggiata per quanto riguarda lo sport sì sono sempre stato ossessionato dallo sport dal calcio dalla box dal tennis e penso che uno dei difetti della nostra società postindustriale sia quello di dividere il mondo tra persone sportive e persone artistiche io penso che se dissero a me l'incarico io direi che tutti una volta devono dedicare parte della loro giornata a uno sport possono giocare a tennis possono giocare a calcio eccetera e poi devono dedicarsi a un'attività artistica la cosiddetta possono dipingere fare musica eccetera eccetera se mantenessimo questo standard minimo non avremmo bisogno di psicoterapia di gruppi di autoaiuto saremmo perfettamente funzionali perfettamente bilanciati perfettamente equilibrata perfettamente equilibrati anche perché non siamo su questa terra solo per lavorare ma siamo anche qui per fare arte e per fare sport Simone sappiamo che lei scrive molto anche per il teatro usa lo stesso approccio e metodo di lavoro anche quando scrive testi teatrali e anche se facendo a screenplay for a film I kind of think very much in these terms as well, I think about it where are people going, what are people going to be doing I think in a very visceral way so I think you do have to think you do have to think slightly differently I think and recognise the medium that you're working in and kind of strategise around that you know it's like I mean the novel is kind of very much to me it's like you very much let the subconscious go in the novel the screenplay I think you're very much more deliberate because it's all about structure, it's all about getting that kind of three act structure and that kind of flow sort of working properly and the stage play to me is kind of it's always mainly about dialogue, it's mainly about what people are saying and how they're kind of they're interfacing with each other in that way so I think you do have to respect the medium that you're in you have to respect and kind of almost start to sort of start to think about how you're working with that you have to start to see the stage play in front of you you have to start to see the film being played in front of your eyes whereas the book it's much more I think you just let your subconscious go no, in reality I don't use the same attitude that I use when I work for the theater or for the cinema I don't have the same attitude that I have when I write a story or a novel I think that you need to have a little bit different to adapt it to the middle of which you are working with that when I write a novel I try to visualize the environment in which they are going to move the characters but I do it almost unconscious while when I write for a theater I try to have clear what are the spatial dynamics of the characters that move on the stage and instead when I look at the cinema I try to have a picture of an image of the whole, of the various copies etc. I think we need to have a different concept of every means on which you are working and then work in a different way we need to have different strategies to follow so, I repeat more than anything when I write poems I work at a level unconscious when I write documentaries for the cinema I think more than anything 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 when I write theater I focus on the dialogue in the way in which people interface with each other and try to respect the medium the medium that I'm using I think that it is important to respect the medium that I'm using this allows you to see what you think first what the audience that the audience will have their own eyes Julia yeah Molte volte gli scrittori si ritrovano ad avere paura proprio dello scrivere in sé è una situazione che ha già sperimentato o se sì qual è la sua balena bianca? no no not really I mean I think I like to kind of make myself a bit scared by what I write I mean I like to if you sit there and you just let the subconscious go and you bang away and then you take it to a cafe to see print it out take it to the cafe see what you've written and then you go oh my god my mother's gonna read this at some point and then you think to yourself well I can disguise it perhaps and make it less like me by the time it's done nobody's gonna know so yeah but I think you know I mean you kind of have to realise that there's so many sources from fiction and I think one of the things that kills fiction is being self conscious about it you know you can't it's a being a writer is a weird thing because you have to be very you have to be very egotistical and some it's one level to kind of want to write you know to have the conceit that somebody else wants to read your kind of fiction but you also have to be able to to get past yourself to get over yourself as well you know and think to yourself well it's not really it's in one way it is all about me because I'm writing the thing and it's all filtered through me but in the other way it can't in another way it can't be about me at all you know it's got to not be you know otherwise it won't work or it'll get boring and kind of you've got to be looking outside yourself at all times you know so it's so it's a kind of interesting paradox and I think that's the that's a paradox that a lot of people actually feel at really that kind of thing about what it is they're actually doing that kind of almost like that existential question if you like no in realta mi piace spaventarmi di quello che scrivo mi piace appunto seguire il flusso di coscienza scrivere per un bel po' e dopodiché alzarmi fare una pausa del caffè e rileggere quello che ho scritto e dire oh mio dio mia madre lo leggerà e riconoscerà me stessa in queste pagine magari potrei camuffarlo un po' no ma tanto se ne renderà conto e quindi io penso che questa autocoscienza sia quello che uccide la narrativa è vero uno scrittore deve essere egocentrico deve pensare che gli altri ti leggeranno deve pensare di essere il centro di attenzione ma in un certo senso deve anche superare se stesso deve anche arrivare alla concezione che non può filtrare tutto non può essere lui il mediatore di tutto quello che poi andrà a finire sulla carta c'è qualcosa che trascende lo scrittore stesso e questo paradosso anche perché non si può essere sempre in scena in tutti i momenti io sono molto interessato a questo paradosso a questa collisione tra queste due a questi due insiemi della creatività di queste due dimensioni della creatività e penso che questo paradosso sia quello che mi fa andare avanti a scrivere Carola spesso viene accostato a scrittori come Chuck Palahniuk o Brett Easton Ellis le fa piacere e si sente effettivamente vicino alla loro poetica sono 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 cosa che una cosa sono una 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 Um, kind of, you know, yes and no. I mean, you kind of, you know, they both are very good writers and Chuck Palahniuk's a good friend. So I'm kind of, so it's nice to be compared, but I think sometimes it's, you get compared because of your circumstances more than anything else. I mean, Chuck and I kind of became friends because we both had the same publisher in America. We both had the same, both our first books kind of became kind of cult films. His, the Fight Club, mine, Trainspotting. And it kind of set us up in the same way and we were kind of perceived in the same way. But I think, you know, when you look at what we do, it is quite different in a lot of ways. You know, it's kind of had the same, the very same reaction and the same kind of crowd that, um, but I think, you know, and I think, I think it's similar with, uh, with Brett Easton Ellis as well. I mean, he had the, um, he did, you know, he did Less Than Zero when he was very young, but he had that, um, impact book with American Psycho and it kind of, um, it set up a kind of notoriety. And I think that, um, when, um, when, um, when people see, or when basically kind of, um, I mean, the, the, the middle class, the world of fiction is very kind of middle class and, 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 and bourgeois and posh and sort of, uh, and when they see kind of notoriety, they tend, you know, they tend to lump it in all together. You know, it's a way of, um, it's a way of saying that this isn't really, this is a kind of branch of fiction that's not really anything to do with us and kind of, um, stick these guys in the sort of notoriety dustbin and, and let them kind of waddle in their own ghetto, you know? So I think that, um, I mean, some ways, like if you look at, um, the styles are so different. I mean, if you look at Brett Easton Ellis is very much, I see him as the kind of, um, the descendant of F. Scott Fitzgerald. He's a very classical kind of writer in a lot of ways. Um, Chuck's got a, a, a very, very different style again. I mean, his is kind of, um, his is very, he borrows from genre fiction, like, you know, like kind of thrillers and sort of horror, horror fiction kind of, um, very expressly. And mine says, you know, I've, you know, talked about all my kind of aesthetics. So I think there is a, you know, there's a commonality in the reaction that we had. Um, but I think there's a very different sort of, um, kind of writing aesthetic going on. Sì, eh, sono, sì e no, in realtà. Eh, sono entrambi ottimi scrittori, poi Pallagnuc, peraltro è un ottimo amico mio, eh, però quello che ci porta a essere paganoati più che altro sono una serie di circostanze. Eh, eh, quello che ci ha portato a essere vicini, eh, a me e a Chuck è una serie di circostanze per l'appunto. Eh, entrambi abbiamo lo stesso editore negli Stati Uniti, eh, sia da Trainspotting che, eh, da Fight Club sono stati estratti dei libri che sono diventati, eh, scusate, dei film che sono diventati film di culto, eccetera, eccetera. Siamo stati percepiti nello stesso modo, eh, abbiamo suscitato le stesse reazioni e in un certo senso anche Brad Aston Ellis perché con il suo libro ha avuto un grandissimo impatto sull'immaginario collettivo, appunto American Psycho. Eh, quindi è qualcosa che ci accomuna la notorietà, la notorietà per dei libri che hanno scioccato l'immaginario collettivo, che hanno prodotto degli altri prodotti o comunque una serie di reazioni catena. Il mondo della narrativa è un mondo molto borghese, molto snob, che quindi tende a raggruppare quelli che hanno avuto più o meno una notorietà paragonabile. Quasi come metterli a distanza dicendo, ah, quei ragazzi si occupano delle loro paranoie, lasciamoli lì da soli, tanto con quello fanno soldi. Ma, ehm, in realtà il nostro stile è molto diverso, eh, Brad Aston Ellis si rifà a Scott Fitzgerald, quindi ha uno stile molto più classico, eh, mentre Chuck Palahniuk si rifà a una certa narrativa, eh, horror, molto esplicita. Io ho ancora un altro stile, quindi più che altro sono le circostanze e il modo, e la percezione che i lettori hanno avuto di noi che ci hanno portato ad essere paragonati. Ma non ci sono tutte queste somiglianze. L'ultima domanda del gruppo di lettura la pone Eleonora. Noi sappiamo che stanno per girare la versione cinematografica di porno. Ci piacerebbe sapere in che misura è stato coinvolto e se ci può dare qualche anticipazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. do this for awhile, and to do the movie of Porno or Trainspotting 2, and we've all said that we won't do it, unless we can get a script that builds on the first one and is actually in some ways kind of better. We've given ourselves a very high sort of bar, and really it's like The actors are now 20 years older, so they don't look at most of them, but they are. I think we've got to decide within the next couple of years whether we do it or not. We've always said if we can get a great script, we'll do it. If we can't, we won't, because nobody really needs the money. We don't want to trash the legacy of it. But we've enjoyed being together again and hanging out together and all that. So it's something that is not guaranteed that it's going to happen, but it's something we would like to do if we got the script right. But we're very, very picky about it, and we'll have to make that decision sometime within the next 18 months, two years, whether we do it or not. In reality, I'm not so sure that porn will be attracted to a film. We've tried a little bit, we've tried to create a film inspired by porn, or even a train spot in two. But for that project, we need to create a scene that will add something to the previous film. that will bring it to a level higher, and then I'll tell you again one thing. We'd like to say, we'd like to maintain the same actors, but the same actors now have 20 years of more. Many of them don't show them, but it's a fact that they're 20 years of more. And I think we'll take a couple of years to decide. We'll have a couple of years to see. We'll have a couple of years to see. We'll have a couple of years to see. Non scegliamo la prima cosa a caso, siamo un po' dei gusti difficili e quindi ci diamo ancora un margine di due anni, 18 mesi per prendere una decisione definitiva. Giuseppe hai qualche domanda ancora? C'è un libro bellissimo che temo non sia mai stato tradotto in inglese che è Le mosche del capitale, uno dei libri più belli usciti negli ultimi 40 anni in Italia di un autore che si chiama Paolo Volponi e che a un certo punto lui raccontando la storia di Torino in realtà attraverso l'industria racconta di Agnelli che nel libro è Donna Fulgenzia e ci sono delle pagine molto belle dove gli oggetti cominciano a parlare, fanno a gara perché il ficus nell'ufficio di Donna Fulgenzia dice che io sono il primo su cui lei posa gli occhi quando entra in ufficio, la poltrona si siede su di me, la scrivania dice che sono più importante io perché su di me lei firma i documenti eccetera. Erwin invece fa parlare non gli oggetti ma fa parlare le parti, gli scarti, c'è il verme solitario del poliziotto dell'Ercio che parla e si insinua sempre più nella scrittura anche graficamente. In questo libro in Godetevi la Corsa c'è a un certo punto il pene del protagonista che parla e si insinua nella narrazione e anche qui graficamente è abbastanza riconoscibile e ci sono tre pagine. La scelta di far parlare queste parti poco nobili del corpo umano e farle parlare attraverso anche un segno grafico così particolare deriva da una tua insospettabile passione per l'avanguardia del novecento? O te lo sei inventato al pub una sera che così avevi bevuto due birra in più e hai detto ma adesso faccio una cosa così che... Yeah, I mean I suppose that was a bit influenced by a book I wrote called Filth where the tape form kind of wound through the text and he was the voice of Bruce Robertson's conscious, you know, his conscience basically, the character of his conscience. So this one was mainly like kind of Terry's sexuality was so important to him when it got me and when it got taken away from him I thought I would kind of actually have his penis kind of revolting against him and wanting to kind of wanting to kind of lead the Terry life basically. So the penis would be the voice almost like of an earlier Terry who kind of who was separating from you know the who the 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 kind of the 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 more kind of cerebral kind of sexist Terry was separating from and he was in kind of revolt against that you know so it was also just it's also the other reason it's just a bit of fun. Another reason as well it kind of breaks up the narrative if you have one narrative I don't like just having one narrative voice in a book I like it to be a lot of things going on so I like to break it up with multiple narrators and I thought it'd be nice if his cock kind of had a few words to say. Sì, mi sono ispirato a quello che ho fatto in un precedente romanzo che è appunto il Lercio dove la coscienza che è proprio un nome del personaggio di Christopher Robertson gli parla in questo modo. In questo caso è il pene di Terry che dato che la sua sessualità sfrenata gli viene impedita ad un certo punto nel libro il pene si rivolta contro di lui e in un certo senso è il suo cervello cioè la sua coscienza che gli è stata separata dato che è così importante per lui è una parte della sua coscienza e gli si rivolta contro. Perché l'ho fatto? Prima di tutto per divertimento mi divertiva molto farlo. In secondo luogo per interrompere il flusso narrativo. A me non piace avere un flusso narrativo continuo sempre uguale. Mi piace avere diverse voci che dialogano, mi piace avere diverse non semplicemente voci ma anche cose che esprimono il proprio parere interrompendo un flusso unico di narrazione. Ci sono eventuali domande dal pubblico? Buongiorno. 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 in un anno, trascorrendo circa tre mesi all'anno in totale, anche se non è mai lontano dalla Scozia a livello di notizie perché legge sempre i giornali scozzesi, guarda le trasmissioni televisive eccetera eccetera, però quando ritorna a casa gli piace appunto anche rilassarsi nel proprio appartamento, vedere i parenti, gli amici e devo dire che tutta Edinburgh è molto rispettosa ai miei confronti, quindi non ci sono tutti molto carini, non ci sono a posto dove mi sento un'anteggiamento ostile ai miei confronti. Qualche? I'd like to have your opinion about that. People like you understand life, people, politics as well, as you talk about Scotland and so on. I've been very impressed, you've been very sharp, clear about what you think. Why do you think politics, the politicians, I mean, don't get the people, the life as well as you do? I think that politicians kind of grow up in a system and they're kind of very, they rely on people's, they need to get people's votes so they feel they have to appeal to a broad base. So it becomes a levelling down, but they don't really say anything of significance because it's going to offend some section of the population. So they try to be as bland as possible to get some kind of middle ground. And if they're not, they try to be, you know, they try and be provocative and maybe pick on immigrant groups or whatever to try and get some attention. I think it's easy for, it's easy for somebody like me because I don't really, I don't really want anything from the political system. So I can be as critical as I like. I don't really need to sort of, I've no kind of vested interest in it. So as writers are kind of, I mean, I've been asked to join all these different political parties in the UK and in Scotland. And I've always said, look, you don't want me there because I'm just going to, I'm just going to turn on you as soon as you start bullshitting basically because you know, I've got that luxury, I don't need to kind of, to toe any party line. So the question is, because he's always so sincere in talking about everything, why the politicians don't know? Because they don't take their own example. Well, the politicians are growing in a system that needs the vote of the people. So they're looking for the vote of the people. So they're looking for the vote of the people. So they're looking for the vote of the of the people in the country, because they could offend a part of the electorate and then they would not receive the vote. I'm, you know, I'm, 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 I'm really very, very provocative, but it's easy for me. I don't want to have that limit with the political system. You know many times have asked me to be part of a part of a a livello scozzese ma anche a livello britannico e io gli ho sempre detto guardate che vi rovinerò perché io mi posso permettere il lusso di dire quello che penso ma se dovessi farlo quando una volta che militassi nelle vostre file vi rovinerei, quindi è qualcosa che io non voglio fare. Un'altra domanda di football. Io scrivo per Crampi Sportivi, un magazine online, e me and the guys love following you on Twitter quando there are matches of Premier League and other things and Ibs, and I remember a tweet about a goal of Andy Carroll on January, wonderful sublime goal and the question do you think there is a football team that plays with the same rhythm of your writing, with the same beats and with the same attitude and another question if there is a football player with the same attitude and the same beat and something like this I would love to say it was like Barcelona and Messi but if I'm being honest it's probably more like probably more like Hibs but yeah I think you kind of aspire to that I think everybody should be aspiring to play that kind of football I love that kind of expansive passing game and everybody should be I think when you kind of anything that you do I think whether it's kind of football whether it's like art and kind of writing and film making and all that you should do it with exuberance because it's I mean it's a very very short life and we've all got to try to make our mark and kind of you know we put something out there that's interesting I think you have to do it any kind of sport any kind of art you have to do it with exuberance quindi la domanda per riassumerla è che lui appunto lui è su twitter e quindi sono molto apprezzati i suoi commenti soprattutto su un gol che è stato fatto da Andy Carroll che è appunto un giocatore degli Hibs in una parte di gennaio e la domanda era questa c'è una una squadra di calcio che gioca allo stesso ritmo della tua scrittura o c'è un giocatore che gioca allo stesso ritmo della tua scrittura beh a me piacerebbe rispondere il Barcellona è come giocatore Messi ma in realtà dovrei dire gli Hibs in ogni caso a prescindere dalla squadra che è una a cui uno si pensa quando si sta scrivendo si sta facendo un film o si sta dipingendo un quadro eccetera ci si sta esprimendo artisticamente in ogni caso io penso che l'elemento fondamentale sia l'esuberanza bisogna essere esuberanti viviamo una vita breve e dobbiamo quindi dobbiamo fare il meglio che possiamo per lasciare un segno soprattutto almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale dal punto di vista artistico buonasera ho due domande la prima è questa vorrei sapere da scrittore come ha vissuto il fatto che alcune scene in trispotting sono state anche se leggermente ma modificate rispetto a quello che era il libro ad esempio la scena di sesso fra Diana e Renton e poi volevo sapere se lui dovesse scrivere oggi tra i spotting se consegnerebbe un finale diverso farebbe comunque scappare Mark Renton grazie la seconda domanda è se dovesse scrivere oggi tra i spotting farebbe scappare ugualmente Mark Renton o meno? grazie grazie a tutti 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 non sempre passi cinematica veniva e tenne delle storyline in questi concerti movie so I think the transformation is that you can't be you can't be like a curator of your book you have to let the film maker go on with it and make their own movie of the book so hopefully kind of keeping in the keeping with the spirit of the book so you can't be too precious about it sometime and that's a kind of said to the filmmakers and trains button you know just keep me out the road as much as possible or just interfere and it won't be good you know so so you know you don't want the writer of the book anywhere near you know the set and all that when you're filming I mean they did have me near the set they had me acting and all that but I think that you know you do learn that kind of lesson that's how it has to be and it doesn't bother me at all because I think that the book is always going to be there the book's done and the book is a different thing and you're not they're not ripping up the book the book is still on the bookshelves they're making something that's hopefully kind of complimentary and the other question was no I don't change anything I mean it's like you can't really I mean you think that when I look back at old books if you the only time I look at them is if I'm adapting them for scripts for screen or stage I'm not interested in them otherwise because all you see are the flaws and the things you would have done different but I think once they're out there you don't want to change them you know your efforts are much better spent going on to something else rather than trying to sort of redo or perfect old stuff no in reality l'adattamento di una opera cioè la realizzazione di un'opera cinematografica ispirata a un libro è qualcosa di totalmente diverso non sono due mezzi completamente diversi e quando si fa un film bisogna lavorare in maniera cinematografica quindi bisogna seguire un flusso e dei bitum dei battiti diversi rispetto a quelli che si sono seguiti quando si è scritto un libro anche io non potevo quando ho collaborato alla stesura della sceneggiatura non potevo fare il curatore del mio libro dovevo solo stare attento che la storia si mantenesse mantenesse quella che era a grandi linee quella che avevo descritto nel nel mio libro quindi che si mantenessero delle cose basilari ma poi il linguaggio è diverso anche perché se si mettesse in scena tutto quello che viene scritto in un libro non basterebbero un'ora e mezza non basterebbero due ore bisognerebbe fare un film infinito e io penso che facendo ho imparato molte lezioni positive lavorando per il teatro per il cinema anche perché ho capito fondamentalmente che il libro è un cinema sono due cose diverse un libro è fatto per essere venduto su su uno scaffale di una libreria il film è totalmente un'altra cosa ripensando a se cambierei qualcosa di trainspotting no non lo cambierei non cambierei nulla piuttosto io non cerco quando guardi i vecchi libri non cerco di adattarli cioè di farne qualcosa di nuovo più che altro cerco di adattarli ad un mezzo diverso quindi cerco di esprimerli in un linguaggio che sia teatrale o cinematografico eccetera ma non cerco di riscriverli quello non mi interessa allora un'ultimissima domanda perché non vogliamo approfittare troppo della disponibilità di Irving ultimissima e breve spero volevo solo sapere che libro sta leggendo in questo momento the book I'm reading right now is the one I was talking about earlier it's called ghetto side and it's about the basic kind of the application of the police and legal system from the policing of black america and the consequences for that sorry black and black crime this point this point to please on black crime as you would know but not a lot of policing of black and black crime quindi il libro che sto leggendo in questo momento è quello che ci devo prima appunto ghetto side che è un libro che parla delle implicazioni illegali per quanto riguarda il fatto che la polizia non si interessi al crimine i crimini dei neri compiuti sui neri quindi che ci sia questa distanza dal mondo reale allora can I just thank everybody for all their questions they were great and thank you for coming along thank you very much Grazie. Grazie di cuore a Erwin Walsh per la sua disponibilità e la sua generosità anche questa sera. Grazie a Giuseppe Culicchia, grazie a Raul Resta, al gruppo di lettura che ha lavorato in queste settimane con grande passione, alla scuola Holden che ci ha ospitato, a Guanda e con Guanda tutti gli editori che ci consentono di portare avanti il nostro progetto del Salone Off 365. Ricordo a tutti per chi lo desidera che il libro Godetevi la Corsa e gli altri libri di Erwin Walsh sono in vendita fuori grazie a Golem Bookshop perché il Salone Off 365 coinvolge anche le librerie del territorio che vanno sempre difese. Grazie.